Longo prima di iniziare Prima Luce Lab, siamo astronomi amatori di molti anni. E mi ricordo quando, ancora studenti, abbiamo salvato un po' di money solo per comprare i primi telescopi. Dopo 20 anni di esperienza, molte ore, osservando e facendo foto del cielo, testando la nostra innovazione, abbiamo deciso che era il momento per un challenge. In effetti, ci sono telescopi di diametro, molto buoni per osservare il cielo, ma difficili per trasportare e per collimare. Telescopi più compati, ma più difficili da usare quando vuoi prendere foto di obiettivi del cielo. Telescopi che facciano l'astrofotografia facile facile di galassi, nebuli o cluster di star, ma sono limitati a usare visuali o per immaginazione di immaginazione di planetà e l'unica. Quindi, la nostra squadra è arrivata a lavoro. Vogliamo creare un telescopio che, usando le tecnologie di Prima Luce Lab, ci permette di fare tutto, da osservazione a fotografia, da immaginazione di immaginazione di planetà e l'unica, a lunga esposizione di obiettivi del cielo. E vogliamo essere facile di trasportare, di sviluppare e di potere sul campo, così che possiamo usare anche da le locali più limiti, dalla polluzione di luce. Inoltre, vogliamo il potere di un piccolo observatore astronomico con la portabilità di un telescopio amato. Ehi, guardate! Con questo, non diciamo che abbiamo il telescopio perfetto. In effetti, se connessi con il nostro sito, potete trovare molti telescopi, monti, ccd-camere, accessori, e possiamo costruire centenze di telescopi diversi. Ma per il nostro progetto, creiamo un telescopio per attivarli tutti, un telescopio per attraversarli, un telescopio per attraversarli tutti, e, nella scurità, immaginizzarli. Inoltre! Inoltre! Per il nostro set-up, abbiamo scelto di usare questo Celestron Edge HD 9 ¼ model perché il diametro 235 mm permettono di vedere un obiettivo di deep-sky ma anche ha capabilità di alta risoluzione, e questo è ottimo per l'immagine di planetaria e l'unica a alta risoluzione. Inoltre, i telescopi vengono con un flattentino interno che ti dà un grande campo corretto, e questo è ottimo anche per l'astrofotografia di deep-sky. Il telescopio è installato su un M1 da Avalon, e questo è ottimo anche per l'astrofotografia perché il design particolare ti permette di avere una grande portabilità grazie a la mancina di lunghezza di lunghezza, e il tipo di design ha nessun backlash quindi questo ottimo funziona anche per l'autoguidare. Per l'astrofotografia di astrofotografia di galassi, nebuli o star clusters abbiamo scelto l'ATIC 16200 camera la versione monochromatica con un sensore di circa 35 mm di diagonale ed è perfetto con il campo corretto del telescopio. In fronte della camera c'è il filtre motorizzato per 7 filtre di diametro di 2 in e in fronte c'è il guida off-axis con la camera monochroma monochroma come un guida autoguidare. Facciamo un'immagine di immagini di planetaria e moon grazie all'utilizzo del QHY-53-290 e osserviamo anche attraverso il telescopio usando le pieghe di occhi e diagonali di occhi facciamo un allineamento polare grazie al polmastro del QHY-CCD e evitiamo che condensiamo l'opptica grazie al modulo ecco-environmentale con sensori di temperatura e di umidità. Questa tecnologia è controllata dall'EGOL che permette di controllare e potere tutti i dispositivi. Abbiamo installato l'EGOL in parallelo con il telescopio principale che è libero di muovere evitando problemi con i cavoli. Questo è un telescopio tecnologicamente avanzato che sarà un challenge anche per noi ma siamo insieme quindi vedremo come osservare prendere una foto e studiare l'universo insieme. Quindi seguiamoci! A presto! A presto!